Il presidente del consiglio Matteo Renzi è stato fortemente contestato all'uscita dal teatro Rossini di Pesaro dove dopo Rimini ha deciso di far tappa per rivelare quali saranno le scelte del governo per il rilancio dell'economia e il taglio delle tasse e ha deciso di partire proprio da qui con uno stress test, come lo ha definito il premier, il percorso in cento teatri per illustrare quanto fatto finora e quanto c'è da realizzare nei prossimi due anni e mezzo fino alle elezioni, pur reso conto quello di oggi con la platea del Massimo Pesarese iniziato intorno alle 15 dopo un omaggio all'archeologo di Palmira, trucidato dalle minizie dell'Isis con un estratto dell'opera Aureliano in Palmira di Gioacchino Rossini a suo arrivo sul palco però un cittadino ha lanciato petali rossi con un chiaro riferimento a quanto accaduto a Roma ai funerali di Casamonica 6 poi i temi presentati da Renzi, riforme, tasse, economia, valori, diritti, cantieri in una slide di sintesi per illustrare le iniziative, le leggi e le proposte per cambiare il paese ricordando gli 80 euro iniziali Renzi ha aggiunto che il prossimo anno verranno tolte Tasi e Imu per tutti poi nel 2017 interverranno sull'IRES, cioè sulle tasse e sulle imprese portandola dal 31% al 24% sotto la Spagna mentre nel 2018 si concentreranno sull'IRPEF nei prossimi anni non ci sarà una situazione da campagna elettorale, ha detto ma di un paese da finire di sistemare con le riforme dopo 20 anni di rissa di un'Italia divisa fra Berlusconiani e non, destra e sinistra concluso, dico che siamo arrivati al momento in cui bisogna lavorare tutti insieme per il bene dell'Italia senza più permetterci il lusso di perderci nel chiacchiericcio di fronte a tutta la bellezza del nostro paese il premier inoltre ha firmato un protocollo insieme al sindaco Ricci e al presidente della regione Ceriscioli con l'obiettivo di impegnare il governo a sostenere Pesaro per il riconoscimento UNESCO di Città della Musica ad aspettarlo fuori dal teatro invece vari gruppi di manifestanti della Lega Nord dei comitati no trivelle ed alcuni insegnanti sono volati insulti e slogan contro il presidente tant'è che per ragioni di sicurezza è stato formato un cordone di polizia siamo in battaglia perché qui c'è un deficit di democrazia un presidente del consiglio che si blinda dentro un teatro mette sugli audio di mi dicono di grillo abbiamo sentito dice le battute che fanno veramente ridere che passeremo a crozza così non deve neanche faticare è un presidente del consiglio che veramente non rappresenta il popolo che vorrebbe rappresentare venga a parlare con i cittadini si è blindato dentro noi ci abbiamo bloccato il corteo addirittura per ordine evidentemente alto probabilmente alfano viene sempre a pensare ma come per i Casamonica nessun problema invece per la Lega che viene solo ad ascoltare senza né oggetti contundenti né uova né niente sblocco della polizia che poi abbiamo concordato e superato potremmo sparire in un giorno guarda loro non saranno capaci di governare lo stesso né loro né in Europa purtroppo perché le cose stanno in una maniera io l'ho vista tutta la faccenda che o i giovani ci pensano loro e si mettono insieme senza odio neanche trasversali quasi vorrei dire o non si arriva da nessuna parte siamo dalla parte del giusto e difenderemo con tutte le nostre forze la costa pesarese e tutte le coste di tutta Italia che cosa chiedete? A gran voce noi siamo qua per opporci fondamentalmente contro un nuovo progetto che è stato rilanciato a seguito dello sblocca Italia emanato da Renzi e dal Parlamento e ci opponiamo alla costruzione di questo nuovo progetto di rilevamento petrolifero di scavi, di pozzi, gaseodotti sulle coste dell'Adriatico in particolare noi come coordinamento Notif Pesaro manifestiamo contro il progetto denominato Bianca e Luisella che prevederà l'installazione di due piattaforme 8 pozzi petroliferi a 24 km alle coste pesaresi Derubati della scuola pubblica questo è un altro striscione presente fuori dal teatro Rossini per quale motivo? Perché comunque la legge 104 che è passata ci toglie ogni diritto ogni libertà di insegnamento e non ci dà più la possibilità di avere un posto di lavoro e quindi la continuità didattica non è assicurata e il precariato non è superato perché comunque i supplenti continueranno a lavorare come supplenti e quindi tutte le cifre che sono state sbandierate e tutti i soldi che sono stati sbandierati non ci sono perché comunque i tagli continuano a esserci sia sui posti di lavoro quindi non si sa come questa riforma cambierà la scuola intanto comunque il nostro diritto all'insegnamento viene comunque minato